di noi, è un punto di riferimento, è un valore, al di là della persona fisica che vediamo concretizzati, non solo perché siamo a una settimana dal Natale, ma perché abbiamo bisogno di questi elementi di aggregazione. Il dottore Salvatore del Biase non chiesto che voleva dire qualche parola in merito. Sarò veloce dopo le importanti affermazioni, senza microfono, questa volta un breve passaggio. San Pietro, pare che ci ho risponduto, sicuro vi va a tornare, credo che non ho permesso vi può dare. A Cossimela io sono nato, pare che davvero a San Biase ci vi è tornato, avanti amatrici, c'era cino d'amici, vi stanno vigili, e come no, tutti i giorni sono con me, e poi non ho contato sempre con Nicotera, mi piglia la pizzicata, e tutti quanti insieme ne passiamo una giornata, non ho fornato, ma anche di parlare, che un'altra volta sangia, sicuro pensava a San Biase e soffria, a villa ci mancava, a pigna e mazio, ma si rifiscava, volè tornare a Praia e Mare o a Caronte, ti si bagnare. Forse si ricordava i giorni d'estate, quando quella mece si ricoglia le matinate, ma la mano di lontano chiamava, una stella che lucia, un'antica amore che volia accompagnare, forse era che l'uomo ha sfruttato, che in armetti, come l'ha presa, se l'ha abbrazzato. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amico. Pace a tutti i presenti in questa piazza, in questa piazza, e di benedirla con la sua presenza. Egli abita con voi, alimenta la solidità fratella. Assista e benedice, signori e tutti. La realizzazione di questa splendida occasione.